Controllati 13 locali e 50 veicoli e identificate complessivamente 325 persone. Sono i numeri comunicati stamani in conferenza stampa dal vicequestore aggiunto del commissariato di Sulmona Francesca Lachioma in merito all'attività di controllo e monitoraggio del territorio che le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale stanno eseguendo sul territorio, in particolare nei weekend, passando al setaccio le zone interessate dalla Movida. Un provvedimento ricorda la chioma che si è reso necessario dopo il summit che si è svolto lo scorso 25 settembre in prefettura. Nel corso del controllo effettuato nei locali della città, oltre al ritrovamento di piccole quantità di sostanze stupefacenti, sono state riscontrate irregolarità nella posizione dei dipendenti. Abbiamo controllato in totale ad oggi i 13 locali, identificato numerosissime persone e abbiamo accertato anche delle violazioni amministrative in alcuni locali dove, tra le altre cose, alcuni dei dipendenti non risultavano assunti, per cui saranno presi provvedimenti di diversa natura. Inoltre, all'interno e in prossimità di alcuni di questi locali, sono stati, grazie alle unità ciofile, anche trovate delle piccole quantità di sostanze stupefacenti abbandonate. Stato a quanto riferito dalla chioma, alcuni locali rischierebbero anche la chiusura. Sul fronte della sicurezza, intanto si riaccende il dibattito politico, è stato il referente di sovranità, Valle Peligni, Alberto Riggian Domenico, a rilanciare un appello al sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, perché convochi immediatamente un tavolo pubblico con i gestori dei locali, i più esposti alle conseguenze delle notti violente. Al di là delle violazioni amministrative, anche per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il questore può, ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, anche chiudere i locali, quindi dare delle sospensioni all'attività. Per cui non si esclude, anche a seguito dell'attività di indagine che stiamo svolgendo anche in questi giorni, in relazione anche agli episodi di venerdì scorso, avvenuti sempre in centro a Sulmona, non si esclude che possano esserci dei provvedimenti di chiusura a breve.